Tecnologia applicata alla finanza, un mondo ricco di opportunità. Questo è l'argomento che è stato affrontato dalla sezione di Piacenza del Lucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, nell'incontro dal titolo Fintech Incorporate Finance, nuovi strumenti e nuove opportunità, tenuto l'Università Cattolica. Ne ha parlato Ivan Fogliata, analista finanziario, formatore, consulente e partner esecutivo di InFinance. Il Fintech è un qualcosa, a mio avviso, di esplosivo, un qualcosa che può cambiare le carte in tavola, come si dice in gergo, game changer, che cambierà il volto e i connotati del mondo del credito. Come funziona e che opportunità dà questo Fintech? Allora, innanzitutto ha un'esperienza del tutto digitale, quindi c'è un po' di spersonalizzazione che però alla fine è relativa. La cosa vera è che riduce tantissimo i tempi, però dall'altro lato impone di avere bilanci particolarmente sani, perché più il bilancio è sano, più l'autostrada del credito si ampia e si velocizza. Sono strumenti che hanno una caratteristica loro peculiare, che è, come dicevo, la velocità. La velocità, chiaramente, ha un piccolo costo, quindi non sono necessariamente particolarmente competitivi a livello di pricing, però dall'altro lato consentono di, ad esempio, per emergenze, poter accedere a una finanza veloce, un pochino più costosa, però riuscire magari a portarsi a casa un deal, un affare, un qualcosa, un'opportunità che è arrivata e che magari col credito tradizionale avrebbe richiesto tre mesi per la delibera e l'affare era già sfumato. Presenti all'incontro anche tanti studenti dell'Università Cattolica. Il mondo della finanza tecnologica sarà il loro. Vedo dei volti giovani in aula. È un'opportunità, ma io dico non solo per il discorso della conoscenza, ma anche perché no, per lo stimolo a creare qualcosa. Chi lo sa che qualcuno di questi ragazzi folgorato abbia voglia di fare una start-up nel mondo del fintech, o vede delle opportunità o voglia di fare cose nuove. La cosa meravigliosa di questo periodo è che i capitali sono solo all'attesa di iniziative importanti e c'è anche una gran voglia di investire sui giovani che abbiano idee e energia.